Gli occhi sono fari e abbiglianti ed io ci so... Lo conoscete tutti? Ma quanti vecchietti che ci sono qui stasera? Ma li sono passati qua? Sapete chi ha scritto questa mitica frase? L'ha scritto lui? Io li sa zitto la nevo. Questa mitica frase è stata scritta dal grande Luigi Tenco. Proprio lui in persona. Perché lui insieme a Sergio Baldotti erano i miei produttori all'inizio della mia carriera, 47 anni fa. Allora, i tuoi occhi sono affari e abbiglianti, non era il titolo. Il titolo della canzone si chiamava proprio Yeah! Allora io vorrei sentire tutti urlare insieme perché le aree ho condizionato. Mi ha rovinato un po' la voce in questi giorni, allora mi serve un po' un coro. Però mi raccomando, solo quando lo dico io, va bene? Quando lo dico io? Vai! I tuoi occhi sono affari e abbiglianti e io ci sono davanti. Sì! Sì! Yeah! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.